buonasera e bentornati al tg della disinfestazione nella puntata di oggi zecche contro cimice dei letti rispondiamo alla domanda i cani portano le zecche ma portano anche le cimici paolo no cani non portano le cimici perché le cimici sono un parassita tipico dell'uomo le zecche si attaccano ai cani quindi hanno come ospite uno dei vari ospiti sono appunto gli animali domestici mentre la cimice dei letti punge prevalentemente l'uomo quindi i cani non c'entrano niente bene già nel video come si prendono le cimici abbiamo visto i numerosi modi di trasmissione ci avevi accennato allo scandalo dei treni di un pochino di anni fa in cui avevano scambiato le cimici dei letti per zecche e quindi avevano dato anche la colpa ai cani purtroppo sì in questi casi è successo appunto che un po di anni fa ci furono queste grandi infestazioni data parte di queste fantomatiche zecche sui treni in realtà ovviamente sappiamo che non erano zecche ma erano cimici ma all'epoca diedero la colpa ovviamente ai cani e quindi ci furono mi pare diverse richieste di fare delle leggi ad hoc per vietare l'ingresso dei cani nei mezzi pubblici fortunatamente nel tempo si è capito che non erano zecche ma erano cimici e quindi che i cani non c'entrano niente quindi non prendetevela con i vostri adorati cani perché non c'entrano niente nella trasmissione delle cimici informatevi e fatelo andando nella guida nella sezione guide gratuite del nostro blog scaricate la guida cimici dei letti all'interno troverete tutte le informazioni che vi occorrono per prendere coscienza di questo infestante e ricordate che gli specialisti della disinfestazione sono sempre al vostro fianco per problemi di insetti infestanti alla prossima